Abbiamo ricevuto una lettera dalla famiglia di Tafida con la quale ci veniva posta la richiesta di accogliere la bambina nel nostro ospedale curandone il trasporto in sicurezza e l'accoglienza all'interno del nostro istituto. Tutto questo a loro spese e nella consapevolezza che qui potessero trovare accoglienza e disponibilità. Innanzitutto abbiamo chiesto ai nostri clinici, ai nostri migliori esperti nelle materie della patologia della bambina di valutare la sua situazione e sono state fatte delle seconde opinion e anche una videoconferenza con i colleghi dell'ospedale inglese. Da questo si è tratta un'opinione relativamente al fatto che la bambina avesse una situazione di minima coscienza e pertanto potesse essere accudita e accolta all'interno del nostro ospedale. Questo è stato rappresentato, scritto sia ai colleghi sia alla famiglia. L'ospedale è in grado di accogliere come sempre tutti i bambini di ogni parte del mondo, in questo caso Tafida dall'Inghilterra, nella logica che prendersi cura rappresenta già di per sé stesso una cura e noi siamo certi che prendersi cura di Tafida sia una cosa buona e possibile. Noi siamo in attesa e a disposizione in ogni momento. Tutto questo non dipende più da noi ma dalle decisioni di chi ha il potere di decidere. Certamente noi rispetteremo fino all'ultimo le loro decisioni e accoglieremo la bambina se sarà possibile. Grazie 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 a tutti